Ogni giorno combatti per capire quello che ti dicono gli altri? Non senti bene o ti rendi conto che è difficile sentire bene? La tua difficoltà ti causa stress nelle relazioni affettive? Non sentirci bene può essere frustrante e può persino portare a un distacco dagli amici e dalla famiglia a seguito dell'imbarazzo che causa. Se tu o un tuo parente avete difficoltà di udito, avete bisogno di MicroEar, il rivoluzionario e innovativo ed economico dispositivo per il miglioramento dell'udito la cui efficacia è provata. MicroEar è dotato di un sistema di compressione digitale che consente di ascoltare qualsiasi suono, forte o lieve, senza dover regolare continuamente il volume. La tecnologia di amplificazione del suono di MicroEar ti consente di udire tutti i tipi di suoni fino ad una distanza di 20 metri. È un dispositivo così discreto che nessuno si renderà conto che lo sta indossando. Ed è anche ricaricabile. Basta inserirlo nell'apposito caricatore per avere fino a 20 ore di udito ad alta definizione. MicroEar è sempre pronto a regalarti una giornata da ricordare. La chiarezza del suono che sentirai ti lascerà senza parole. Guarda i tuoi programmi preferiti senza perderti una sola parola. Torna a divertirti agli eventi sportivi, ai concerti, alle cene fuori, senza l'ansia di non essere in grado di udire. Con MicroEar sento tutto, anche i più piccoli suoni. Non pensavo che ne avrei avuto bisogno. Me lo dicevano, ma solo ora mi rendo conto di cosa ho perso. Non avevo idea di non riuscire ad ascoltare quei suoni. Anche se sono in pensione, non voglio rinunciare alla vita. Resterete stupefatti nel risentire il fruscio delle foglie, il cinguettio degli uccelli o il rumore della pioggia. La prima volta che ho indossato MicroEar, ho sentito cose che non sentivo da molto tempo. È stato incredibile e mi ha cambiato la vita. Ha davvero migliorato le nostre vite? Hai ragione. Sì, è vero. MicroEar è facile da usare. È uno dei dispositivi più innovativi presenti sul mercato oggi. MicroEar non solo ha cambiato la mia vita, ma anche quella di molti altri. Chiama ora per informazioni su MicroEar all'incredibile prezzo che vedi in sovraimpressione. Proverai i benefici di MicroEar nella tua vita personale e professionale nelle conversazioni di tutti i giorni. Non dovrai più chiedere «Cosa hai detto?» e visto che MicroEar può servire a tutta la famiglia, abbiamo deciso di raddoppiare l'offerta. Due MicroEar al prezzo bassissimo che vedi sullo schermo. Sì, esatto! Riceverete un secondo MicroEar completamente gratis! Incredibile! Grazie a MicroEar sarete sempre in grado di sentire in qualsiasi situazione. Guardate i vostri programmi preferiti finalmente senza perdervi una sola parola. Tornate a divertirvi agli eventi sportivi, ai concerti, alle cene fuori senza l'ansia di non essere in grado di udire. Questa è davvero la tua opportunità per migliorare il tuo udito e tornare a interagire con gli altri. Chiama ora per informazioni o vai sul sito ultimiarrivi.com